Il discorso più complessivo al Presidente dell'Anci, verso che Natale si stiamo avvicinando come misure di contenimento? In realtà ci stiamo avvicinando a un Natale responsabile all'insegna della convivenza con il virus, mi pare abbastanza evidente. Ci sono dei dati che oggi ci fanno tenere alto il livello di attenzione, perché ogni mattina ci svegliamo guardando i bollettini dei contagi, ma soprattutto ci alziamo guardando la pressione ospedaliera. I contagi stanno aumentando, la pressione ospedaliera sta reggendo, però è evidente che c'è un progressivo, seppur lento, aumento. Detto questo, ovviamente tutto dipende da noi, nel senso che le programmazioni degli eventi natalizi stanno andando avanti, continueranno ad andare avanti fino a quando ci saranno le condizioni di sicurezza per poter garantire un Natale sereno, nel vero senso della parola. E quindi i sindaci sono pronti in ogni momento, eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, a sospendere quelle che sono le iniziative, ma sinceramente non vorremmo farlo. E quindi l'invito che faccio è, anche se non c'è l'obbligatorietà, per esempio, di utilizzare la mascherina in quelle situazioni dove si possono creare in modo naturale degli assembramenti nelle piazze, e capire che è una fase delicata di ripartenza e che tutto dipende da come decideremo di comportarci. Io lo farò in modo responsabile, quindi se andrò in piazza a vedere l'albero di Natale o ad ascoltare un concerto, indosserò la mascherina. Non serve sempre che sia il sindaco che ce lo dice, però cominciamo ad essere tutti quanti un po' più responsabili. Sono passati 22 mesi e credo che ormai abbiamo maturato quella esperienza necessaria per capire come proteggersi. Avete una linea comune come Anci o c'è qualche posizione particolare che va governata in qualche modo? No, è la linea del buonsenso e dell'occhio di riguardo alla comunità che sta ripartendo e a quella fetta di popolazione che invece liberamente ha deciso di non vaccinarsi e che oggi è quella fetta di popolazione più debole e che purtroppo sta riempendo piano piano gli ospedali. Quindi un occhio di attenzione va a questa fascia di popolazione che va protetta, sensibilizzata e magari convinta a vaccinarsi, però un grande occhio di riguardo va rivolto anche alla popolazione che invece ha deciso di fidarsi delle istituzioni della scienza e della sanità e che oggi chiede di poter vivere normalmente, di poter lavorare, di poter affrontare questo Natale con grande serenità.